Mi fa piacere di poter parlare anche di queste attività della Croce Rossa perché nell'immaginario comune la Croce Rossa viene sempre identificata con l'ambulanza, con il soccorso sanitario, mentre invece la Croce Rossa è tanto altro. I nostri volontari si occupano di tante altre attività, in particolar modo attività che sostengano e aiutino le fasce più deboli. In questo caso specifico il nostro comitato insieme ad altre associazioni benefiche della città ha partecipato a un bando promosso dall'ambito territoriale sociale di Pesaro proprio per volto a sostenere e aiutare le povertà estreme. Ci siamo divisi un po' i compiti, nel senso che questo programma ovviamente prevede diverse attività di sostegno e alla Croce Rossa è stato affidato il compito di realizzare e gestire una piccola lavanderia che verrà quindi messa a disposizione delle persone poi identificate, delle famiglie diciamo più in difficoltà identificate dai servizi sociali del comune e questa lavanderia è stata realizzata nella nostra sede storica di Via Saffi che è qui alle nostre spalle. La lavanderia avrà per il momento un funzionamento di mezza giornata un paio di volte la settimana, poi dopo vedremo in base alle richieste se sarà necessario modificare questi orari e queste tempistiche ci saranno dei nostri volontari che verranno ad aprire e ad assistere e aiutare le persone che appunto verranno mandate dai servizi sociali per appunto utilizzare queste lavatrice, asciugatrice per lavare i loro panni. Si direi che la notizia probabilmente ancora più bella rispetto a quella che già siamo a celebrare oggi è il fatto che siamo insieme e non è scontato che in un territorio come Pesaro la povertà si affronti facendo rete sia con il pubblico che con il privato che con il volontariato per cui ecco questo è l'inizio di un percorso che ci porterà lontano credo e porterà le persone, le fasce più deboli a essere sempre più incluse e integrate nella nostra città. Siamo in tanti ed è bello perché siamo in molti a interessarci degli ultimi, abbiamo con noi la città della gioia, la allus gulliver e l'amministrazione tramite l'ambito territoriale quindi che rappresenta anche tutti l'unione dei comuni ed è bello questo sguardo comunitario verso i più poveri.